Il Partito Democratico ha presentato un programma progressista e io credo convincente nei contenuti ma ha bisogno di riacquistare credibilità e capacità di rappresentare coloro a cui si è rivolto anche in questa campagna elettorale con un rinnovamento profondo che significa un rinnovamento della nostra ragione politica e abbiamo bisogno di promuovere una nuova generazione. E quindi su questo Enrico Letta ha detto qualcosa di importante a cui io mi rifaccio e che sposo che deve essere una nuova generazione a prendere in mano le sorti dell'alternativa al governo e alle forze politiche nazionaliste che oggi andranno a governare il Paese. Credo che questo dibattito sia sbagliato. Il dibattito su chi dovrà guidare il Partito Democratico dipenderà dalla linea e dalla visione politica che il PD assumerà con una discussione che necessariamente dovrà essere profonda e non accademica. Vedremo poi, giovane può voler dire tante cose, figure che esprimano un rinnovamento politico e anche di figure, quindi anche generazionale, ma non solo. Non è disponibile? Non è possibile candidarmi a niente perché, come ho detto, oggi penso che chi oggi si propone di candidarsi a segretario fa un danno al partito. Io sono qui a guidare la delegazione al Parlamento Europeo, penso che ci siano tante persone valide che oggi possono essere coloro che potranno guidare il partito.